Sono stati premiati dal Consiglio regionale grazie a un'iniziativa di Lara Magoni, 11 atleti della rappresentativa lombarda di calcio a 5 affetti da sindrome di Down. Le associazioni che hanno visto i propri atleti piazzarsi sono Sporting 4E di Milano, Arcobaleno di Monza e Pub di Busto Arsizio. Si tratta di Nicolò Vandelli, Luca Vigna, Andrea Ciusani, Bruno Sommavilla, Marco Sfreddo, Marco Puzzone, Loris Zucca, Marco Fasanella, Matteo Ambrosini, Davide Crotti e Davide Nicola. I ragazzi, per il secondo anno consecutivo campioni d'Italia, sono stati accolti e premiati da una folta delegazione di consiglieri regionali.